buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fornite dedicato all'ascia manufatto come riscattare questo nuovo piccone è davvero semplicissimo basta completare l'incarico di oggi che consiste nel distruggere 10 pietre ora vi farò vedere come completarlo in modo davvero veloce eccolo qui questa è il laguna distruggi pietre bisogna distruggerne 10 per ottenere questo piccone davvero davvero interessante quindi partiamo con il video di oggi vi ricordo prima di cominciare iscrivervi al canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati tutti che li conoscono e sopportare il canale con un bel colizionato così questa è la zona dove si trovano più pietre scendete qui e farmatele ci metterete da meno davvero troppo qua ce ne sono davvero tante potete distruggere con il piccone con le armi con le granate con qualsiasi cosa basta solo distruggerne 10 quindi in carico davvero davvero semplice per ottenere questo piccone che è davvero davvero carino fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao